il cane nudo messicano è di origine messicane è una specie identificata e classificata e fa parte dei cani di tipo spitz e di tipo primitivo scopriamo in modo dettagliato le caratteristiche del cane nudo messicano il suo aspetto generale e il costo di un cucciolo è una delle razze considerate le più antiche al mondo tanto che le sue origini si perdono nel tempo gli indigeni allevavano il cane nudo messicano come tutti gli animali da cui veniva ricavato il cibo essi samavano della sua carne in maniera consueta è considerato un ottimo cane sia da compagnia che da guardia ha un'altezza algarrese che varia dai 28 a 31 centimetri e un peso che varia da 4 a 12 chilogrammi la sua particolarità fondamentale è l'assenza per poco completa del pelo proprio per questo motivo la sua pelle se viene esposta al sole può riportare scottature il carattere del cane nudo messicano è nobile e tanto riservato è un cane che si affeziona parecchio al padrone è già giocherellone affettuoso e tranquillo intelligente e molto paziente con i bambini ma molto attento sospettoso e parecchio diffidente con gli estranei è un cane facile da addestrare perché è molto ubbidiente normalmente è molto gentile con la propria specie e non dovrebbe avere difficoltà nel convivere con altri animali domestici il cane nudo messicano è valutato come una delle razze molto preziose e il prezzo di un cucciolo con pedigree possa arrivare fino a 3000 euro mi auguro che questo video sia stato di tuo gradimento ti invito ovviamente a condividerlo lasciarmi un commento e iscriverti al mio canale grazie e arrivederci grazie a tutti